Oggi abbiamo fatto un passo in direzione giusta, penso, soprattutto abbiamo lavorato meglio e molto di più dell'ultima partita e dobbiamo metterci in testa che ogni partita da giocare, se giochi con la prima o con l'ultima, è da lottare al 100%, se no qua non vai da nessuna parte. Adesso ci sono delle partite fondamentali, punti molto pesanti contro il Febbar, contro il VN e poi il ritorno qua contro l'Olimpia, su cosa c'è ancora soprattutto da lavorare? Penso che dobbiamo tirare di più, abbiamo cominciato oggi a farlo, magari ci va ancora meglio, dobbiamo cercare il tiro in porta e gente davanti che tira via la visuale al portiere o a sporcare i dischi e dovrà andare negli angoli a lottare e buttarci suoni disco e comunque l'importante è l'atteggiamento per i 60 minuti.